Tocca a noi con Paolo Bellini sempre che è sempre sindaco di Pozzolengo se arrivano dei messaggi appunto vedremo. Anche per quest'anno probabilmente. Ovviamente. Allora Bellini vedo che sono tanti messaggi adesso daremo voce a loro ma si parla fondamentalmente delle accise sulla benzina. Molti sono arrabbiati. Il tenore dei messaggi vedo che non è proprio favorevole all'aumento della benzina. Più che molti sono arrabbiati siamo tutti arrabbiati perché al di là che adesso dico la mia come al solito uscirò uscirò dal seminato. Al di là che secondo me dobbiamo abituarci a queste a queste grandissime manovre perché la volontà è come avete visto al di là della moda è che vogliono portarsi a utilizzare solo esclusivamente l'elettrico. Quindi secondo me anche il discorso dei carburanti del gas e quant'altro che stanno crescendo a dismisura al di là guerra mia guerra speculazione. Non speculazione. È una politica che viene fatta proprio per farci abbandonare la volontà di utilizzare gasolio, benzina, gas, metano e quant'altro. Secondo il mio il mio ignorante parere. Dopodiché è impensabile continuare in questa maniera. Soprattutto è impensabile quando si dice una cosa se ne fa un'altra. Campania elettorale piuttosto che i vari video che girano da parte del nostro presidente del consiglio Meloni dove le accise erano un abominio, dovevano essere tolte immediatamente perché 50 euro di benzina, 15 euro solo erano i carburanti, gli altri 35 erano imposte e poi alla fine non va a fare quel taglio delle accise naturalmente con tutto quello che sono i vari commenti. Cioè le accise se le mettiamo, se andiamo a tagliare le accise utilizzando un miliardo, un miliardo, tre miliardi, sono soldi di tutti, mentre le accise sono solo sui carburanti. Cioè le solite cose. Ma il fondo, il fondo per quanto mi riguarda, è che c'è, che vogliono, ci vogliono diseducare alzando a dismisura questi prezzi per, per quanto riguarda, per portarci poi all'elettrico che è poi per me l'enbluff. Anche le auto elettriche sono un bluff. Queste autopistine che girano sono un bluff. Tanto per essere chiari e così almeno la chiudiamo e se ne parla più. Dopodiché anche il discorso dell'alibi del clima, non clima. Penso che ci siano scienziati autorevoli, molto più autorevoli di molti di noi, che hanno detto in maniera molto chiara che sono cicli. Tra le altre cose sono notizie di questi giorni che il buco dell'ozono si sta chiudendo. Quindi anche qua, anche qua le smentite arrivano quotidianamente che non è un discorso che dipende prettamente dall'uomo. Quindi lasciano il tempo che trovano. È logico che l'attualità è che molte famiglie, gli autotrasportatori, le aziende si trovano a fare i conti con prezzi fuori da quello che sono il mercato normale, che incidono in maniera negativa sui bilanci. Questo è fuori discussione. Sia un bilancio familiare che sia un bilancio aziendale. Certamente. Tra l'altro diciamo anche che in Italia, ma credo in Europa, in Europa è più alta ancora, perché non ci sono tutte. Dopodiché anche il discorso price cap, tetto al prezzo del gas, tetto al prezzo del barile, del petrolio, anche qua lascia il tempo che trovo. Abbiamo visto tutte le volte che hanno messo dei tetti o hanno liberalizzato, i prezzi sono schizzati sempre più in alto. Quindi non so che tipo di politica stia facendo il governo, non so che tipo di politica economica l'Europa voglia suggerire ai vari stati membri. Questo mi sfugge tanto per essere chiari. Certo. Allora, secondo lei, le chiedono il lavoro, calerà ancora? Io credo che quest'anno, l'anno scorso è stato un anno difficile, anche se l'economia andava, tutta l'Europa ha reagito bene al post pandemia e vabbè dopo è uscita la guerra, siamo quasi a un anno di guerra, perché quando siamo al 22, 23, 24 di febbraio è un anno di guerra. È stato un anno difficile per l'aumento dei costi di tutte le materie prime, per l'aumento dei tempi di approvvigionamento dei materiali e credo che i primi sei mesi, quantomeno i primi sei mesi di quest'anno, ricalcheranno forse anche in maniera peggiore l'anno passato. Dobbiamo naturalmente stringere i denti, c'è una sorta di tranquillità sotto un punto di vista economico, cioè le aziende sono sul chi va là e sono alla finestra, vogliono capire, che è una parola grande, cosa sta succedendo. Però confido che, come sempre, la manifattura italiana, le aziende italiane, l'imprenditoria italiana, l'artigiano, la piccola e media impresa, sanno reagire e sanno andare avanti con grande vigore. Certo, certo. Allora, Bellini, ho sentito che c'è l'obbligo di iscrizione 17 anni maschi a lista di leva, ma torna la Naya e chiedono, sì, è una notizia di alcuni comuni, sì, di uno almeno. C'è qualcosa nell'aria, però oggi non c'è nulla di confermato e di preciso, dopodiché la Naya, boh, non lo so, sarebbe veramente un grande problema perché abbiamo dismesso le caserme, abbiamo dismesso tutto quello che sono le attività, abbiamo dismesso tutto quello che sono le attrezzature, sono rimasti pochissimi siti. Boh, la vedo dura, però. Senza dimenticare tutti gli impiegati pubblici che servono proprio per starci dietro queste cose, tra l'altro. Perché sono una cosa impossibile veramente da immaginare. Allora, contento degli aumenti del 48% della CISE per finanziare la flat tax e aiutare i multimiliardari. Allora, va bene, questo messaggio che non so che abbia mandato, però ci può far approfondire un attimo la cosa, perché ieri la Premier Meloni nel suo blog, non so cosa sì, insomma, il diario di Giorgio, ha detto, guardate che allora se riduciamo le CISE, quello che prende 500 euro al mese paga di meno con la sua utilitaria, ma paga ancora di meno quello che c'è al macchinone, ha detto, quindi va per tutti. Invece io ho voluto aiutare le famiglie più in difficoltà, ma in che modo però? Perché altri dicono che in realtà è per finanziare appunto questa flat tax che va ad aiutare le grosse, ma proprio grosse aziende. La flat tax non aiuta solo quello che hanno i redditi fino a 85 mila euro. Certo che l'imprenditore, l'autonomo piuttosto che l'artigiano o coloro che fatturano fino a 85 mila euro hanno un'agevolazione. quello che non trovo corretto e che per me è una flat tax, infatti non la condivido la flat tax, anche perché non è il momento, cioè bisogna avere anche il coraggio. Io credo che sia importante andare a mettere in tasca i soldi alla classe più debole, oggi è il dipendente la classe più debole, è colui che dobbiamo dare un potere di acquisto superiore, quindi il conio fiscale, io avrei agito molto di più in maniera molto più pesante sul conio fiscale, anche perché che differenza c'è tra una partita IVA di 80 mila euro e una busta paga lorda di 80 mila euro, che differenza c'è? Sono sempre 80 mila euro, gli euro sono euro, le lire erano lire, perché io imprenditore, io autonomo fatturo 80 mila euro la flat tax, tu dipendente o io dipendente che ho una busta paga lorda da 80 mila euro mi trovo penalizzato rispetto alla flat tax. Questo è il succo del discorso, dopodiché, ripeto, sono scelte politiche, il governo ha fatto una scelta politica e ne risponde, però credo che sia plausibile e sia normale che c'è chi esprime il suo pensiero. Per quanto mi riguarda, ripeto, la flat tax assolutamente, avrei agito in altra maniera e senza raccontare tante storie, tante fandonie, le tasse e queste che, cari miei signori, c'è la cosa unica che possiamo fare nell'arco di un anno, due anni, è una riforma fiscale a 360 gradi, per quanto mi riguarda, su tre sponde, riforma fiscale sulle partite IVA, riforma fiscale sulle persone fisiche e riforma fiscale su quello che sono i reggiti della pensione. Questo è i tre temi importanti, dopodiché al momento c'era da lasciare tutto come era, le alicote, le tre, le quattro, le cinque e quant'altro e andare avanti, cercare di fare una politica importante su quello che sono dei risparmi nella pubblica amministrazione, quanti sprechi abbiamo, potremmo fare un miliardo di esempi, un miliardo di esempi potremmo fare, senza nessun tipo di problema. Questo è il tema importante, perseguire naturalmente il cuneo, quello sì, il cuneo fiscale su quello che è la busta paga, assolutamente sì, anzi, osare di più, e questo secondo me era anche perché la platea del beneficiario era molto, ma molto più ampia e quindi ci dava un potere di acquisto a molte famiglie, tanto per essere chiari. Certo. Allora, ma dai bellini sappiamo tutti come l'invio di armi pagato dal popolo sono i soliti regali e dice il nome di una grossa azienda, io non lo voglio dire, comunque va bene, insomma, la immaginiamo. Beh, cioè non abbiamo nemmeno da mangiare e andiamo a comprare le armi per bandarle in Ucraina, tutto questo è veramente ridicolo, ci può aiutare, si può essere consapevoli, si può condividere la resistenza, ma se qualcuno non ne ha è ghiena mia, d'accordo? Tanto per essere chiari, noi possiamo andare a asilo, possiamo ospitare, però se non abbiamo i denari nemmeno per mantenere la nostra gente e per sostenere la nostra gente, non vedo perché dobbiamo spendere miliardi e miliardi di armi, tanto per essere chiari. Allora, torno un attimino al sindaco perché sono arrivati dei messaggi per il sindaco. Allora, la Fiera di Pozzolengo è un simbolo di un paese che è continuamente in movimento, dice Claudio. Sì, tra le altre cose sono più di 120 anni, quindi è qualcosa di veramente incarnato sul territorio. Proprio, veramente. Bellini, sindaco a vita, dicono, qua c'è Archile a volere una ragione, adesso sindaco a vita. Per carità. Beh, insomma, scusi. Grazie per l'elogio, ma è meglio che vada avanti qualcun altro. Poi, da poco tempo abito a Pozzolengo, sono molto contenta perché è una cittadina attiva e bellissima, dice Lorella, che è contenta. Grazie. Allora, altro messaggio, i migranti d'Ancona per favorire, ma per favore portateli a Mestre. Ah, sì, c'è anche, sì, questo caso, esatto, perché allunghi di 24 ore il... Ma, credo sia corretto la distribuzione sul territorio e in porti sicuri. Può fare in treno, però. E' inutile che veniamo qua a fare delle disquisizioni il porto sicuro, scusate, per forza quello della Sicilia piuttosto che della Calabria. Se a Lampedusa sono già sbarcati 2.000 migranti e l'hotspot ne contiene 500, non è più un porto sicuro, anche se il porto sicuro, la nave entra, ormeggia, non è solo un discorso il porto sicuro, è individuato nell'ormeggio, ok? Il porto sicuro è come si possono ricevere questi poveri disgraziati. Allora, direi, faccio una cosa, ci fermiamo un attimino e con Paolo Bellini, rubrica Tocca a noi, ci troviamo tra un paio di minuti. Rubrica Tocca a noi, con Paolo Bellini, seconda parte, appunto. E allora, stiamo rispondendo ai tanti messaggi, tra l'altro, vuole approfondire qualcosa sulla regione, anche visto che sono arrivati dei messaggi in cui dicevano che, tanto lo sappiamo che lei andrà in regione. Sì, con la macchina. Vado in regione a cercare fondi. Ecco, comunque è sempre bello. No, no, tra un mese, il 12-13 di febbraio, votiamo per la nostra regione Lombardia, quindi rinnovo dal Consiglio regionale. Al di là delle idee politiche, mi sento di dire solo una cosa. Cercate di fare un fermo immagine e un ragionamento. Guardate chi è venuto sul territorio dei vari consiglieri regionali, piuttosto che assessori sul nostro territorio, chi ha portato risorso al territorio, chi è stato vicino alla gente del territorio, chi è stato presente in una politica attiva. Ecco, pensate e poi decidete di conseguenza. Questo penso sia fondamentale. Sì, questo esatto. La regione non è un comune, ma comunque è più circoscritto. Osserviamo appunto... Al di là delle simpatie politiche, che per carità sono legittime, credo che sia focale e dire, accidenti, quel consigliere là l'ho visto presente sul mio territorio. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto per il mio comune? Cosa ha fatto per la nostra gente? Perché era sempre qua così presente, al di là dei voti? Ha portato risorse? Ha fatto una politica di aiuto per la nostra terra, il nostro territorio, la nostra gente? Ecco, queste sono le domande che ci dobbiamo porre e poi cercare di dare delle risposte che penso possano facilitare anche la scelta a chi dare la nostra preferenza. Oggi, 12 gennaio, Paolo Bellini ha fatto un record, perché io magari ho censurato un attimino parte del messaggio, eccetera, le hanno dato ai fratelli d'Italia della Lega di Sinistra Italiana. Adesso, Letta, che bella figura che fate come PD. Mi hanno dato anche da 5 stelle. Sì, ma oggi ne ha fatte 4, eh? La trinta ha 4 formazioni. Per cui, va bene. Allora, dai Paolo... Benvengano. Dai Paolo, dice un altro messaggio, non fare campagna per la regione, a me il presidente Fontana non piace, dice un ascoltatore, ma non ha fatto campagna elettorale. Io non sto facendo campagna elettorale per nessuno, ho detto solo di fare un ragionamento, di fare mente locale, di fare un fermo immagine, dopodiché, al di là del singolo, al di là del partito, io credo che dobbiamo dare valore a quello che sono le persone. Ritornare al di là del partito, ripeto, al di là della simpatia politica, dare valore alle persone, coloro che si sono spese per una politica attiva sul territorio. Questo è il mio messaggio. Vedi, poco fa l'è andato del PD. Un altro messaggio che ancora non l'aveva letto, però era appena arrivato, dice, voi di Fratelli d'Italia nel 2015 sostenevate la Russia nella guerra in Donbass, ora date armi all'Ucraina, come l'ha spiegato, ci sono i servizi della rete pubblica ancora, tra l'altro, si possono... Allora, al di là del Fratelli d'Italia potete darmi... Sino oggi ha fatto quattro formazioni... Non ho nessuna tessera. Detto questo io non ho mai sostenuto la Russia e la mia storia ne può essere buona testimone, sia da ragazzo fino ai giorni nostri. Senza bisogno di fare promozione e senza bisogno di dire cosa ho fatto, cosa non ho fatto e cosa sono. Non chi sono, cosa sono. Poi c'è chi dice, ho sempre votato per la Lega, ma questa volta voglio votare proprio per lei, dice un altro messaggio. Grazie, non so che lo vuole. L'avevo detto che ne aveva fatto quattro oggi. Allora, vediamo, altro messaggio ancora. Parli del Covid, tra poco c'è la variante Mazinga, Z, eccetera. Chiedo a lei, è normale che tutti questi malori improvvisi, morti sani, nessuno dice niente? Chiede Sandro di Medole. Anche lì sa che c'è, adesso ancora non si sa, c'è anche la commissione d'inchiesta. Le cose, di cose normali non ce ne sono. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a nulla di normale. La cosa che concedetemi mi fa più specie e mi dà veramente fastidio. E dice, ma il telecomando è democratico il telecomando, ti girate al canale, non hai bisogno di guardare per forza ancora qualche virologo, Virostar, in varie trasmissioni e senza fare nomi l'aria capua, senza fare nomi, è presente ovunque e ci dispensa di saggezza. E ve l'ho letto cosa ha detto questa signora qua a febbraio o marzo 2020, che non era niente di che il Covid, che avevamo infezioni ben più importanti. Quindi la smettessero di insegnarsi come si fa al mondo questi signori qua. La smettessero. Dopodiché le varie varianti ne abbiamo di più e di ogni. La cosa ulteriore che mi dà fastidio, io sono molto più cattivo su queste cose qua, al di là di tutte le disquisizioni, se è vero, se è vero che ci sono più di un milione di infetti al giorno, se è vero che ci sono dai 5 agli 8 mila morti al giorno in Cina, i Gamia de Vainarchi, i Gamia de Vainarchi, non devono venire qua. Punto. Non devono venire qua. Non serve a niente il tampone fatto due giorni prima, perché sapete perfettamente che l'incubazione può durare 5, 7, 9, 10 giorni. D'accordo? E se proprio vogliamo farli venire qua, i Vain quarantena minimo 5 giorni. Dopo 5 giorni fanno il tampone, se è negativo i Vaturen. Vanno in giro. D'accordo? Ci hanno già impestato, appestato una volta. Basta, no? Basta, credo che la storia insegni. Ho sbaglio. Sono cattivo? Sono intollerante? Sì. Sì. Sotto questo punto di vista, in questo caso, sì. Ma lei lo sa che ci sono dei precedenti storici. L'isola della Giudecca, mi pare, no? dove faceva la quarantena, i marinai delle navi che arrivavano dall'Oriente. Ma anche negli Stati Uniti, New York, dove c'è la Stato della Libertà, quell'isola serviva per mettere in quarantena tutti i migranti che arriveravano. I partiti italiani. Ci sta in quarantena anche un certo l'acchio. Voi ci raccontate delle balle? Se la verità è questa, che la Cina oggi ha dai 5 agli 8 mila morti al giorno, per Covid, e ha più di un milione di contagi al giorno, basta! I gatti stanno a casa, so! O che girano in Cina, e se no, se proprio vanno in quarantena, come scendono dall'aereo, pam! Subito in quarantena. Ma chi mi dice che tu fai il tampone e sei negativo tra due giorni, invece hai il Covid? E sapete la media di chi scende dall'aereo che è positivo? Sapete quanto è? Va dal 38 al 58% in base dalla destinazione, dall'arrivo. Come vi rendete conto? Cioè lui, questo signore qua, che è positivo, su un aereo di 200 persone, vuol dire che ce ne sono, andar bene, ci sono 76-80 positive, a contatto con le altre 120. A proposito, a Pozzolengo, ci sono casi di Covid oppure sono influenze? Che poi Covid... Ad oggi è cambiato tutto il sistema di calcolo, quindi non ho rilevanza. Mi sembra che sia a Pozzolengo, incrociamo le dita, è tutto tranquillo. Beh, incrociamo le dita appunto. Questo, allora, questo governo evidentemente non sa come agire e non sa come vive la gente. Bellini, lei che elogia il governo, dice, mi parli delle accise, degli aumenti, troppo facile urlare dall'opposizione e poi fare una piroetta. Non ho mai elogiato il governo, mai. Ho solo detto no, per onor della cronaca del vero, ho detto solo una cosa, quando mi hanno chiesto come considera questo governo, bla 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 bla, ma io non devo considerare nulla. Se noi dobbiamo utilizzare il metro di paragone che è stato utilizzato negli ultimi dieci anni per giudicare i governi, che è lo spread, dio spread, eh? Eh? Non è blasfemia? Ok, la gara esuela, ha ragione lei, perché fino ad oggi lo spread è calato. Cioè, tutto qua. Dopodiché, io ho già detto alcune cose che non piacciono, che a me non piacciono, ed è legittimo. Come questa qua, gli aerei, chi proviene da Cina. No, io non li farei entrare, o come minimo gli faccio fare la quarantena, la flat tax, la me piasmea. Cioè, dopo non so come faccio a elogiare il governo, qualcuno me lo dica. Guardi, oggi ha fatto record, oggi appunto. Bravo Paolo, purtroppo i nostri politici non la pensano così, i cinesi però sono padroni nostri, sono purtroppo di noi stessi. mangiare un piatto di pasta non è come mangiare un piatto di cavallette se li mangino in Europa, appunto. Beh, domani, domani proprio le 10 e 30 sono stato invitato allo Nato, alla Rocca. A mangiare cavallette? No, assolutamente, da presidente col diretti Ettore Prandini, dove appunto c'è questa manifestazione, questo convegno, dove andiamo a parlare appunto di cibo. È impensabile che noi utilizziamo farine ottenute dagli insetti, anche perché degli scienziati hanno detto che in molte tipologie di insetti, scarafaggi, lombricchietto, e quel che l'è, c'è una sostanza, adesso non so se l'è la chitina, piuttosto che che il nostro apparato digerente non riesce a scomporla. Gli animali tipo gli uccelli o quant'altro, quelli riescono perché hanno un altro tipo di digestione e quindi è molto pericolosa per l'uomo, tanto per essere chiari. Allora, Bellini, come industriale, sei un grande, come sindaco anche, prevedi che capottiamo a breve? Non ho capito come? Allora, fai complimenti sia come sindaco che come imprenditore. Prevedi che capottiamo, che ci ribaltiamo, che l'Italia vada a gambe all'aria. No, no, l'Italia non può andare a gambe all'aria. Ci provano in tutte le maniere, negli ultimi vent'anni ci hanno provato in tutte le maniere. Quanto l'Europa, quanto, eh beh, anche l'ultima, fai un bip e che così capite che la parola non è simpatica. va bene. Eh, ok? L'ultima storia dell'efficientamento, al di là della classe energetica che entro il 2030 tutti dobbiamo avere minimo una classe energetica D. Ma chi ga i soli? Classe energetica D? Beh, è mia è cambiare la caldaia come qualcuno pensa. Non è cambiare la caldaia. Devi rifare gli infissi, gli intonaci, devi rifare il tetto. Ah beh, muovi un mattone su migliaia di euro, quindi... il pensionato ha 700 euro al mese di pensione che fa la famiglia che vive con un reddito di 1500 euro al mese cosa fa? E lo vuole imporre l'Europa. Entro il 2030 classe D, entro il 2035 un'altra classe. Cioè, questi qua, cambiare tutte le automobili dobbiamo passare tutti all'elettrico che è un bluff. Lo ripeto, lo ribadisco, ditemi quello che volete, è un bluff. È un bluff. Allora, i cinesi sono padroni di mezzo mondo, come fa a pretendere che non vengano da noi? Le dicono. Semplice, anche più di metano. Semplice, non vengono. Saranno padroni di quello che vogliono, ma alla fine volete che ci impestino ancora? Tanto per essere chiari. Allora, siamo arrivati al momento in cui, un momento molto atteso, un momento in cui noi andiamo a suonare una campana. Per chi suona la campana? Per chi suona? La campana la suoniamo naturalmente al governo, che si deve ricordare quello che ha detto negli anni in cui era l'opposizione, quello che ha detto durante la campagna elettorale e quello che sta facendo, che molte volte è il contrario, tanto per essere chiari. E la campana poi la suoniamo in Europa. È un'Europa sempre più distante, è un'Europa sempre più egemone, è un'Europa che non comprende le necessità della popolazione, quantomeno italiana ma anche di molte altre parti, come abbiamo visto per quanto riguarda appunto classi energetiche e quant'altro, è un'Europa che probabilmente se contiene di questo passo non so fino a che punto ci rappresenti. Tutto qua. Signori, buon anno e ribadisco ancora, ricordo ancora, 18-19 marzo, Fiere di San Giuseppe. Grazie. Grazie a tutti. E poi che diamo? Siamo tutti italiani. Siamo italiani. Eh? Beviamoci sopra! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.